Signore e signori buonasera, questa è Minecraftita e io sono un nuovo concetto di... no, too much, too much Signore e signori, io sono Surry, buonasera, questa è Minecraftita e oggi voglio fare del famosissimo Attenzione questa è una piccola reference, terraforming Eh sì, ogni tanto me ne esco fuori con questo fantomatico terraforming ma penso che oggi possa addirittura avere del senso E mi spiego, praticamente stiamo andando sempre più spesso verso quella montagnola con i villager Ed è bello, è molto simpatico ma non abbiamo un vero e proprio modo, non voglio dire neanche rapido ma estetico per salire lì in cima a quella montagna Sta passando un'ambulanza sotto casa, va benissimo Ma ero lì che stavo farmando del ferro con il mio inventario, ho 28 pezzettini, insomma non è male, anzi va benissimo I nostri iron golem continuano a morire, tutti i cugini del gym bro che uno dopo l'altro continuano a morire Va bene, noi raccogliamo, ero qui, ero qui, stavo contemplando il cielo, il panorama, stavo guardando a cacchio Sta per scendere il sole, sta per tramontare, ero lì e ho detto Azz, ma sai che nella mia testolina si sta formando un pensierino Mi piacerebbe creare una strada che parte da là sotto e piano piano arriva magari qui Qui si crea un piccolo spiazzale in modo che posso anche collegarlo di là Quindi fare una salita lì, una salita lì e poi da questo piccolo spiazzale andare lì sopra Ha senso? Non lo so se ha senso, però è ciò che proveremo a fare oggi Per questo mi sono creato la mia diamond shovel, tanto in realtà si tratterà più o meno di terra e di pietra da rimuovere, null'altro E ci terrà a compagnia il nostro, non è il gym bro, non posso rifare tutti i personaggi di minecraft Cioè già per fare, vi racconto un attimino perché la storia di questa statuina Perché io sono abbastanza sicuro che una statuina del gym bro sarebbe bella Però non è che si può fare, cioè non è che arrivo io e posso realizzare a random personaggi di minecraft Se ho potuto farlo con il nuovo concetto di esplosione Che tra l'altro grazie mille di tutti gli ordini Ne ho già parlato un po' su Instagram ieri in delle storie Ma ci sono state una marea di ordini ultimamente Ma davvero una marea, una media di più di 100 ordini a settimana E alcuni ancora dovevano partire da un paio di settimane perché erano finite le scatole C'erano troppi ordini rispetto a quello che ci eravamo preventivati con la logistica E quindi nulla, sono rimasti un attimino bloccati Però arrivano, anzi sono partiti tutti tra ieri e oggi quindi arrivano E dicevo, se ho potuto fare il nuovo concetto di esplosione Che è anche lì, perché non l'ho chiamato creeper, perché non posso chiamarlo creeper L'ho chiamato un nuovo concetto di esplosione perché uno si entra nell'ottica e dice Effettivamente, se uno gioca a Minecraft e pensi a un'esplosione Ci può stare, non è scontato perché non tutti siamo pazzi come me Però può diventare una cosa per cui se uno pensa a un'esplosione, pensa a un creeper E quindi diciamo che questo piccolo escamotage e il fatto che è un'edizione limitata Mi permette di, diciamo, prendere spunto dall'immagine del creeper Anche se poi è di un altro colore, c'ha solamente la forma che è simile ma cambia la faccia C'è la fiammicciola sopra, insomma tutta una serie di baghe legali che mi hanno permesso di fare questa roba Altrimenti, ovviamente, col cacchio, arriva Microsoft che mi diceva Oh bello, cosa stai facendo? Guarda che ti vedo, eh Più o meno sarebbe stata così la situazione E non sarebbe molto, non sarebbe stato molto bello, ecco, molto simpatico da parte mia Però col Jim Broda già diventa più complicato Cioè poi diventa una serie di fare dei mock-up Poi un casino, già con questo ho perso un botto di soldi Cioè già se le vendo tutte forse ci vado in pari Ma ho dei dubbi, ecco, ho fatto dei conti e neanche troppo Quindi sì, è stato un bel esperimentino Sempre incrociando le dita Ma sono abbastanza fiducioso di riuscire a finirli tutti prima dell'estate Perché con questa mole di ordini che stanno arrivando Dovremmo riuscire a finirlo abbastanza in fretta Due anni dopo averlo fatto Però abbastanza in fretta E poi, poi vabbè, appena, appena ufficialmente ci sarà il sold out Ci facciamo una bella, un bel video perché Sul primo canale in cui parlo anche di sta roba qui Perché so che piace, piace a tanti Quando parlo di, di soldi Ma non di soldi perché sono soldi Di soldi perché si imparano tante cose facendo questi, questi piccoli esperimenti Ecco, la famosa Università della Strada Solo che non è la strada, è l'Università di Internet E io imparo sempre tante belle cose E mi piace anche condividerle con voi Io sto scavando un attimino Andando in alto Ma sai che forse sono già arrivato in cima Eh, lo vedi? Sono già arrivato in cima Quindi, o l'ho fatta troppo Forse l'ho fatta troppo ripida Dovevo andare da questo lato E magari arrivare lì Facciamolo Tanto qui è un secondo da ricoprire Sta roba qui Una cosa di questo tipo Esatto Olè E noi ce ne andiamo invece da questo lato Perché voglio fare questo sentiero? Eh, ma ve l'ho già detto Quando siamo andati a esplorare Abbiamo trovato la montagna solitaria Praticamente sul volo Uno degli ultimi viaggi che ho fatto Sul volo di ritorno Mi sono visto l'Hobbit E cacchio che bello Quei passaggi di montagna Bellissimi Che ci sono a giro Clamoroso Obiettivamente clamoroso E quindi mi viene voglia poi Di replicarlo nel mondo di Minecraft Come è sempre stato, eh Però, va bene Allora, facciamo che qui Possiamo creare la nostra piccola piazzola Forse aveva senso farla lì la piazzola, però, eh Vogliamo andare avanti Vogliamo fare un sentiero un po' più Tanto in realtà Ci aiuta anche la generazione del mondo Perché, come vedete, c'è già un po' di terreno Che si presta quasi a creare Una sorta di sentiero laterale Poi qui Ecco, l'altra cosa bella Voglio fare tutto un sentiero Quindi questo sarà tutto Fatto in questo modo Perché è un blocco bellissimo Di sfumatura E' semplicissimo da realizzare Quasi come il muschio Cioè, è uno di quei blocchi che io definisco Overpowered Ma di qui? Di qui si scende? Beh, questa potrebbe essere L'altra salita Oppure che va verso di là Vicino al lago di lava Beh, perché no? Perché no? Facciamo caso che uno da qui sale Fa il giro Arriva qui E poi continua a salire Quindi di qua poi Facciamo L'ulteriore Questa è una caverna Ma non ci interessa Di qua potremo fare L'ulteriore sentiero Che ci porta invece su Ok Scaviamo anche qui Poi per rendere Il tutto ancora più bello Questa è la prima fase Di terraforming Cioè che stiamo dando Un attimino Uno schizzo Di come vogliamo che venga Poi bisogna ragionare Anche su scale Scalette E tutto ciò che ne consegue Perché ovviamente Vogliamo che sia Una transizione semplice Mi piacerebbe Poter salire qui Senza premere neanche una volta La barra spazzatrice Di solito È così Che sono i sentieri Quelli belli Ok Vabbè Già così Mi piace come idea Di qua abbiamo un bel sentierone Che poi andrà Tutto giù Poi riempiremo ovviamente Anche con Non dico lo muschio Ma un po' di bombia Facciamo le cose carine Fai anche così Quelli più Ok La riempiamo di lanterne Tanto ora il ferro Non è assolutamente un problema Abbiamo anche la muccozza Qua che è felice Ok Scusa Ma io da dove arrivo Ah arrivo da di qua Quindi questo è un po' superfluo Però Qua magari ci mettiamo Delle fornaci Delle Delle crafting table E di qui Invece È da dove Arriviamo Che più o meno Deve essere Modificato Però all'incirca Diciamo che se il mio sentiero Parte da Qui Potrei essere felice Guarda L'unico sbatti del sentiero Ah no guarda Invece si trasforma Ok Tra l'altro chissà Se mi basta Una palla di diamante Per fare tutto il progetto Potenzialmente no Però ci va bene uguale Ok Ecco E come per tutte le cose Non devi aspettare Di avere L'idea perfetta Nella tua testa Ma sto parlando di minecraft Ma della vita in generale Tu intanto parti Tu intanto parti E poi vedi che Stato facendo Capisci Otto metodi diversi Per migliorare Ciò che stai Che stai provando a fare E questa è una cosa Bellissima Che mi ha insegnato Che si neistat Con i suoi vlog No? Che dice Se tu aspetti Di avere la perfezione Sotto mano Aspetterai per sempre Quindi tanto vale Iniziare E poi vedere Dove arrivi Incredibile Super maestro di vita Ok Iniziamo a rendere Tutti questi Sentieri Ok Qui sicuramente Questi li sostituiamo Con della terra Si è riempito di mucche qui Non so Si vede che sono Curiose Voglio vedere cosa sto facendo Con la loro montagnola Via di qui Via di qui Ok Per il momento mettiamo Delle torce Sempre Comunque Non dovrei neanche dirlo Ora si sta facendo notte Forse Ha senso andare a dormire Qui un secondo Ritrovarsi con un creeper Esplodere il sentiero Ok Si Dovrei assolutamente andare a dormire Questo Bello Bello Così Poi proprio A bordo montagna Qua ci mettiamo anche degli alberi Così A random Ci mettiamo anche degli alberi Si Andiamo dal Wondering Trader Che ora è invisibile Perché è notte Ma noi sappiamo dov'è Non ci dà niente interessante Blue eyes Non ci interessa Red mushroom Neanche Wheat seed Ma Poteva andare meglio Eh Potevi darmi un attimino Più interessante Ma la butto lì Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Vogliamo prendere No C'è della gente Allora evitiamo di dare fastidio La farm di ferro Che già si è rotta una volta Mentre la costruivo Vorrei evitare di fare ulteriori danni Se possibile Se possibile Ovvia buttiamoci Ecco Poi sarà interessante pensare A quale blocco usare Per rendere questa salita Fluida Quindi senza dover Quindi senza dover cliccare La spazzatrice O tutte quelle robe lì Che sembra scontato Sempre Ma non lo è Perché con i blocchi del sentiero La scelta migliore Forse È usare il legno Il classico Quello di quercia Che è un po' più Un po' più chiaro Potrebbe essere bello Anche usare la betulla Quello è uno scheletro Maledetto Io ti ho visto Muori un po' Grazie Per il flex Avremmo potuto usare Del ferro Però Non si possono fare Le scalette Col ferro Quindi Guarda che bello Già che si vede un po' Il percorso Che segue La montagna Bello 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 Però per costruire L'altro Quindi quello che scende Proprio davanti All'uscita dell'ascensore A questo punto Lo facciamo partendo dall'alto Anche qui Piccolo consiglio di vita Il famosissimo Top down Cioè partire Dalla Dalla soluzione E arrivare quindi Al principio Una roba del genere Non mi ricordo Però me lo faceva fare La mia maestra di matematica La maestra Manuela All'alimentari O alle medie Non mi ricordo Non mi ricordo Però Figo Allora Io da qui Posso sicuramente salire Giusto? Mi ho detto che saliamo di qui O sbaglio? Mi sembra abbastanza una salita Questa Facciamo finta che Questa è la mia salita Ok Quindi Iniziamo a delinearla Poi si può sempre cambiare In un secondo Figuratevi Ok Si fa così Fa un po' random In modo che non sia Troppo precisa Se no poi sembra Attificiosa Non è il massimo Ok Anche qui Vabbè qui mettiamo Della terra Non lo lasciamo mica così Scendiamo di qui Ovviamente Sarà un po' Da allungare Sta roba Perché Così è un po' Troppo salterellina Per i miei gusti E così siamo collegati E il sentiero C'è Ok Aia Che è sta roba No Questa roba qua non mi piace Magari ci mettiamo Degli Degli slab sotto Non lo so Non lo so Mettiamoci dei blocchi nuovi Piuttosto Eh Sì dai Però io poi da qui Devo salire Dall'altro percorso No Perché io salgo da qui Esatto Facciamo il famosissimo Top down Allora Io potenzialmente Vorrei poter salire Da qui Sempre con un percorso Più o meno Fluido Esatto E Prima di fare una cosa Di questo tipo Vabbè Ora lo costruiamo bene bene Magari Lo allunghiamo anche un po' Allora Alcuni segmenti Purtroppo le scale Non si potranno mettere Ma Cercheremo di mettere In buona parte Ok Perché io se vado dritto di lì È dove ho Il mio ascensore Giusto O dov'è Deve essere lì dietro Il mio ascensore Dov'è il mio ascensore Mmm Era più o meno Eccolo il mio ascensore Quindi potremmo fare anche Un percorso che va da questo lato Che va lì Fammi passare E che da qui Giusto Esatto Sale 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 Non fa male E ti porta qua Beh Non è male Potremmo anche fare una piccola piazzetta Con delle statuine Cioè Statuine Sculture Sculture bellissime Aggiungerei Tipo così Ora ripeto Questo è molto provvisorio Perché così le scale Non ce le puoi mettere Però È un buon punto di partenza Ecco qua Ok Già il sentiero Inizia a prendere forma Qui ovviamente Dovremmo mettere Altri blocchettini Di qua si continua a salire Abbiamo Questo A parte che sembra Fango Però Vabbè Qui scale Scale Dovremmo mettere tante scale E Dov'è Aspetta Dov'è che arrivo Di qua devo andare Giusto Eh si Devo andare di qua Quindi Facciamo una cosa di questo tipo Poi sostituiamo anche i blocchi Ok Più o meno Più o meno Ora andiamo alla farm di ferro E vediamo se ci piace o meno Sostituiamo anche questi blocchi qui Poi ovviamente la parte bella Sarà riempire questa roba di torce Perché Quando riempi di torce Vuol dire che di notte Diventa bello bello illuminato Sì lo so che c'è nel carbone Ma lo lascerò lì Perché al momento Non ne ho bisogno Ok E poi uno va qui E praticamente salgo Mi ritrovo sopra quest'altro Sentiero E posso arrivare in cima Ok Ok Già ci può piacere Scendiamo Andiamo alla farm di ferro E vediamo com'è il mood Vabbè In realtà non si vede neanche tantissimo Eh Senza le lanterne Si nota solo un attimino Che glissale E che lì c'è Poi la parte che porta La farm di sugar cane Che è anche quella Diciamo Non è che funziona La grande Eh Tanti fail Tanti fail Eh Tutta sta terra La diamo via Tanto non ci interessa Siamo pieni Ehm Ok Proviamo A capire Per La salita Perché Secondo me Ripeto Il blocco migliore Potrebbe essere davvero Legno normale Il problema del legno normale È che non ne abbiamo E tu dirai Ma come non ne abbiamo Cacchio dici Siamo pieni No Abbiamo lo sprusso Cosa sto facendo Abbiamo lo sprusso Non abbiamo Il legno di quercia Cioè questo legno qui Non ne abbiamo in grande quantità Anche perché Giustamente È più difficile da farmare Noi se usiamo lo sprusso È perché ci fa i super alberi E abbiamo 8000 pezzi E siamo tutti felici Però Non sempre È domenica Quindi come facciamo Non ne abbiamo davvero Tra l'altro O prendiamo degli alberelli Che non abbiamo neanche Ah eccoli invece Prendiamo degli alberelli E li piazziamo Non li piazziamo qui sopra Li piazziamo In alto Saliamo su È l'unica Perché Qui lo spazio per la farm Ormai Diciamo che non ce l'abbiamo O perlomeno Non voglio deturpare il panorama Andiamo a farlo su Prendiamo un po' di bommina Sarebbe da fare una bella farm di legno È una di quelle automatiche Magari con Non so se c'è ancora Il duplicatore di TNT Oppure Ma scusa Vabbè ma a questo punto Facciamolo direttamente lì Tanto di spazio ne abbiamo E giustamente sta diventando notte Perfetto Allora Piazziamo un po' di alberelli E li fermiamo Uno Due Ah poi questi c'hanno Un altro sbatti Che poi crescono All'infinito Diventano quelli grandi Enormi Eh fortunatamente Non abbiamo bisogno Di troppi 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 blocchi Cioè quando fai le scale Pfff Sei abbastanza Sei abbastanza easy Non dobbiamo piazzarne 20.000 blocchi Non è un progetto solo scale Sono abbastanza sereno dai Tanto bommina ce l'abbiamo Alberelli ce l'abbiamo Si può fa' Allora Potrebbe avere senso anche Provare con un paio di slab Facciamo dei tentativi Prima di andare così Ah famosissimo cazzo duro Se io faccio così Posso comunque salire Senza troppo sbatti E Forse questo dobbiamo rimuoverlo Sì forse gli slab Sono la versione migliore Cioè può essere anche Una roba di questo tipo Eh Quindi fai un po' scale E un po' Un po' slab Tipo così Beh potrebbe avere senso Eh non è male Questo lo fai tipo Così Neanche un po' Stravagante E poi qui attorno Ovviamente ci metti altri blocchettini Così è più giustificato Eh eh Sì sì mi sa che ha senso Eh Facciamo così Piazziamo una crafting table E facciamo intanto Sicuramente altri slab Una buona quantità E allo stesso modo Un po' di scalettine Però non partiamo da questo lato Partiamo Dal lato lungo Perché secondo me Quello Non so se è quello che useremo più spesso Però passando dalla farm di ferro Ci sta che possa esserlo Prendi un po' tutto Guarda qua quante mele Ogni volta che prendo le mele in minecraft Mi viene in mente Eh Stronghold 2 C'era un gestionale In cui dovevi fare i frutteto E prendere un botto di mele Non mi ricordo Poi anche qui Ora ci facciamo un bel ponticello Eh Lascia sta Per forza Tocca Allora Potenzialmente Diventa una roba di Questo tipo Qui magari ci facciamo Piccolo workaround Vai Uno due tre Anche qua Uno due E Uno due E qua diventa difficile Non è che è difficile qui Però diventa sicuramente Più complicato Gestire la situa Perché magari Qui ha più senso fare una cosa di questo tipo E metterci la scaletta Così posso Esatto E anche qui mettiamo La scala Uno slab Una scala E altre scale A questo punto Pure così Ok Ok Fattibile Allora se non è fattibile Cioè così Dovrei riuscire a salire Senza Premere neanche una volta La barra spazzatrice Devo semplicemente Seguire Il legno Perfetto Qua ci mettiamo scalette Se abbiamo bisogno di una marea di scalette in più Pensavo potesse essere leggermente più semplice Però magari il risultato finale ci piace Cioè spero che ci piaccia il risultato finale Facciamo così Vai Più scalette che Che slab Perché Sono molto più comode le scale Quindi io salgo qui Metto una bella Scalettina lì Una bella scalettina qua Salgo Scala Guarda non vorrei mettere scale ovunque Però Eh Qua purtroppo mi sa che conviene Quindi sarà un po' Un sentiero non sentiero Sarà un sentiero Un po' fittizio Però nascosto Ecco questa roba qua magari no eh Esatto Beh ma ti dirò Non mica ci dispiace Anzi Quasi carino No Madonna sbaglio sempre Fai così Posso salire Ok E scala Ci piace? Eh potenzialmente ci piace Ok Qui abbiamo l'altro sentiero Che prosegue dritto Quindi qui è solamente Da abbellire Pa 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 E qui E qui Casca l'asino Cioè non è vero Però qui serviranno delle scale Anche qui perché è abbastanza ripido Potremmo fare anche una doppia scaletta E basta eh A fine la differenza di colore Cioè ho fatto bene A immaginarmi questo Questa combinazione Ci starebbe bene anche la sandstone Però magari poi lo facciamo La sandstone lo usiamo per l'abbellimento Anche quello potrebbe avere senso Sì Allora facciamo altre scalette Non possiamo farne tante In realtà solamente quattro Però oh male male Farmiamo un altro po' di legno Giustamente è iniziato a piovere Allora qui Potremmo fare una roba di questo tipo Scaletta Qui facciamo così Perché siamo quasi in cima Così Uno Due Tre Quattro scalette Forse queste sono di troppo Allora Già che piove Facciamo così Facciamo crescere un bel alberello Abbiamo esagerato un pochino Certo Come sempre La melaccetta E qua Uno Due Tre Quattro No Quattro non bastano Facciamo crescere un altro Sì siamo un po' affossati in questo momento Ma ci va bene uguale Olè Sette Otto Ok Ora sì che prima no E qua sopra Uno Due Tre Quattro No Questo in realtà andava bene Sai che non mi dispiace Qui altro non mi dispiace Pensando che qui attorno ci saranno magari delle foglicciole Delle lanterne Cose di questo tipo Ecco diciamo che potenzialmente noi Il nostro percorso per salire e scendere potremmo averlo Perlomeno dalla parte lunga Per la parte corta È un po' più complicato O no Che qui con le scalette Vabbè non è neanche troppo lunga questa eh Io faccio così Più che altro con le scalette qua è davvero difficile Perché dovresti farla quasi in diagonale Poi qui un secondo Basta fare così Stessa roba di qua Metti una scaletta qui Metti qualche slab qua È un po' come una ricetta in cucina no? Un po' di sale Quanto basta Ok Va bene Questo lo rimuoviamo Oppure lo facciamo Posso? Non posso? Vabbè rimuoviamola Mi sa che è quasi notte Andiamo a dormire Ok La scaletta possiamo nasconderla Vabbè nasconderla Possiamo metterla qua Beh direi che bene o male ci siamo Abbiamo più o meno un'idea del percorso Ovviamente questa è la base Ora va Va abbellito Che è la parte più divertente Se vogliamo Come va abbellita questa roba qui? Perché è un po' troppo ammassata Per ora ci serve per l'utilità Perché comunque Ecco come ho detto Non ci sta più dando ferro Perché non ci sta più dando ferro? Madonna Ora mi vengono sempre i dubbi Vuoi vedere che magari il villaggio deve dormire O fare robe Sei ancora vivo? Sì tu bro Lo spaventone ancora vivo I broschi I broschi sembrano sereni Non dovrebbero essere solo troppo Vuoi vedere che devo fare anche chi la roba Del lasciarli un attimino dormire Di spaventarli Che sembra una cazzata eh Però se fai così Loro poi sono tranquillissimi Fanno ciò che vogliono Lavorano un pochino E poi PUM Paura Eh magari bisogna aspettare un attimino che dormano Perché ci sta che ogni tanto debbano dormire Vabbè Comunque Allora analizziamo il nostro percorsino Uh bello Guarda come sale 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 Ha fatto tutto il bordo montagna Che ora belliamo bene bene E poi di lì sale ancora Ma e ci sarebbe una bella statua Una scultura di qualche tipo Sopra la montagnona Anche di là Bello 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 Già è un modo migliore di salire Che non fare 8000 salti Sul bordo della montagna Ma anche per scendere Perché ogni volta che scendo Altrimenti Devo mangiare 4 bistecche Perché perdo 12 cuori Ed è un casino Invece così Vedi Uno sale Non ho ancora premuto Neanche una volta Alla barra spazzatrice C'abbiamo 3 mucche Prima erano 2 Che è su Da dove siete uscite Nessuno l'ha ben capito Ma va bene così Ancora non ho premuto La barra spazzatrice E io posso andare su Tutto bello Contento contento Fino ai miei villager Fino al mio manning in realtà Perché villager è sti cazzi E il manning noi che vogliamo O no Perfetto Tra l'altro Questa sugar cane farm Continua a non funzionare Neanche per il cacchio Va bene Come al solito Per questo video Signore e signori E' tutto Ci vediamo domani Con la prossima puntata Di minecraftita In cui abbelliremo Questo bellissimo sentiero E credo Realizzeremo un bel ponte Perché Serve Ci serve assolutamente Ciao Tra l'altro a tutti